Iniziamo con questo spezzone preso dal mio video della storia di TempleOS Mettiamo le cose in chiaro, il titolo non è clickbait e tutto quello che vi racconterò in questo video è vero Vi sembrerà tutto, ma dico tutto, pazzesco, ma ahimè qua non si scherza Quindi questo video non sarà come quello di Dreambird E poiché i miei sensi di ragno mi dicono che questo argomento potrebbe essere divisivo Metto qua, qua preso, il mio pinguino accanto a me Chi ha visto il video di Dreambird sa benissimo a cosa io mi stia riferendo Dunque, ci sono dei programmatori e da quello che ho capito Molti di loro hanno una specializzazione in ingegneria del software Che non usano flussi condizionali Quindi no EFELS, no operatori eternali e no switch Niente di tutto ciò La domanda che sono certo che vi state chiedendo è la stessa che mi sono chiesto pure io Si può fare? Sì Questo modo di fare programmazione non nasce nel 2023 Esiste già da diversi anni e i sostenitori più forti hanno addirittura fondato un movimento Anti-EF Programming Il link è in descrizione se volete in qualche modo approfondire Fare questo video mi ha messo molto in difficoltà perché è un argomento vasto e complicato E allo stesso tempo non è ben documentato Non ho trovato per esempio un manuale per sviluppare programmi senza EF Come li si potrebbero trovare per come programmare ad oggetti Quello che ho trovato un po' in giro per internet sono stati diversi post qua e là E vi lascio in descrizione come al solito Ho pure trovato un video su YouTube che tra l'altro, guarda caso, parlava di come calcolare i pundeggi del bowling A quanto pare è un problema molto comune che si presta a diverse implementazioni Anche quelle senza EF Se non ve lo ricordate o siete nuovi nel canale, io ho fatto una serie in cui ho portato otto implementazioni In diversi linguaggi di programmazione su come si calcolano i pundeggi del bowling Ma nessuna di queste era priva di blocchi condizionali Tra l'altro la playlist la trovate qui sopra Adesso comparerai il link Per rendere le cose facili per tutti ho diviso questo video in quattro parti Le motivazioni a supporto di una programmazione senza EF Alcuni esempi L'eccezione alla regola E infine mi sbilancio con delle conclusioni finali Che cerco di tenerle quanto più moderate e senza pregiudizio possibile E quindi iniziamo con le motivazioni E le leggiamo direttamente dal sito della campagna anti-EF L'obiettivo della campagna anti-EF è quello di aumentare la consapevolezza sui rischi dell'applicazione della strategia EF E richiamare l'attenzione sull'importanza di sostituirla con altre tecniche di progettazione Più efficaci per affrontare la crescita, il cambiamento e la complessità E che vuol dire? Se per voi non è chiaro, niente paura Ho passato diverse ore a capire il senso di queste poche parole Perché quei tre sostantivi, crescita, cambiamento e complessità Non sono accompagnati da un complemento di specificazione Quindi la crescita, il cambiamento e la complessità Di che cosa? Beh, di una qualunque parte di un progetto software Come per esempio un metodo o una funzione Quindi questo significa che se hai una funzione e man mano che la scrivi Devi aggiungere varie casi e o eccezione alle varie regole che tu devi fare Allora ti puoi ritrovare in una condizione di questo tipo Che vedete qua a schermo Qui c'è un codice, credo scritto in Java o qualcosa che ci assomiglia In cui devi calcolare il salario di una persona e vengono gestiti diversi casi Abbiamo il caso in cui questo è un dipendente semplice, un manager Lasciamo perdere per adesso le eccezioni dovute al congetto parentale E cosa potrebbe accadere se poi dobbiamo aggiungere future altre tipologie di dipendenti Che ne so, il supervisore o il team leader Che magari avranno panche orarie differenti O addirittura altri modi per calcolare il salario Che ne so, altri bonus, sconti, non lo so Come la si risolve una cosa del genere? Ovvero la crescita della complessità di una funzione o di un metodo? Si deve completamente cambiare l'approccio di come si affronti il problema Un approccio è quello di creare delle sottoclassi Ognuna per ogni tipologia di dipendente E mettere dentro di ciascuna un metodo Per esempio calcola salario Cosicché gli oggetti fatti da ciascuno di questa classe Sanno come calcolare il salario per ognuna di queste circostanze Capite bene che in questi casi non si avrà più il problema di gestire quei casi Con una cascata di if-else Ma sarà la programmazione di oggetti Con il concetto di ereditarietà e dynamic binding A selezionare il metodo corretto Che fa il caso nostro senza avere if-else E fin qua tutto ok Tra l'altro ho fatto un video sullo static e dynamic dispatch Su cui viene basato lo static e dynamic binding Che vedo ritrovato qui sopra qualora vogliate approfondire Quindi la motivazione principale è non usare if Perché con la programmazione di oggetti O addirittura l'utilizzo di altri paradigmi di programmazione O altri costrutti di linguaggio Tipo che ne so l'overloading Qua sto facendo un esempio Ti permettono di fare a meno Andiamo a vedere quindi alcuni esempi In questa circostanza ho evitato di proposito di utilizzare dei costrutti compatti Tipo che ne so La list comprehension Per rendere il codice più espanso possibile Appunto di proposito Per focalizzarci su quello che ci serve per questo video Ovvero partire da un codice con if else E togliere di mezzo Quindi il primo esempio è il seguente Supponiamo che abbiamo una lista di numeri Di cui vogliamo sommare solo i numeri pari Quindi mettiamo una variabile accumulatore Che viene incrementata solo nei casi in cui il numero è pari A questo punto è meglio fare un breve ripasso Su come si determina se un numero è pari o dispari Un numero è pari se la sua divisione per 2 non ha resto O meglio se lo divido per 2 il suo resto è 0 Per i numeri dispari il resto sarà 1 L'operatore modulo identificato da questa percentuale Che viene appunto chiamato operatore modulo Calcolerà il resto della divisione tra i due operanti E sommo il valore di n solo se il resto della divisione per 2 sarà 0 Benissimo adesso come togliamo questo if Se lo togliamo succede che sommiamo tutti i numeri Quindi dobbiamo trovare qualcosa che ci permette di sommare solamente tutti quei numeri n Quando quei sono pari E quindi cosa dobbiamo fare senza utilizzare un if La matematica ci viene il nostro supporto perché possiamo ottenere una funzione dal punto di vista matematica Che ci restituisce 0 e 1 Quindi vogliamo qualcosa che sia 0 quando il numero è dispari E 1 quando il numero è pari Perché se moltiplichiamo questo numero che come dicevo può essere sia 0 e 1 Per il numero n quando è 0 sappiamo che 0 moltiplicato qualunque numero fa 0 E 1 moltiplicato qualunque altro numero fa lo stesso numero Quindi dobbiamo trovare un qualcosa che sia 0 per i numeri dispari e 1 per i numeri pari Dove troviamo una funzione matematica che ci dia 0 per i numeri dispari e 1 per i numeri pari? Beh il calcolo del resto della divisione per 2 fa certamente l'opposto Ovvero ci da 0 per i numeri pari e 1 per i numeri dispari Quindi quello che possiamo fare è calcolare 1 meno il resto della divisione E moltiplicare questo valore per il numero n E il gioco è fatto Con lo stesso principio possiamo fare una funzione che presa una lista di numeri Applica a ciascun numero una funzione diversa se questo numero è pari oppure questo numero è dispari Qui c'è l'esempio classico quindi con gli if In questo caso quello che faccio è divido per due numeri pari e moltiplico per due numeri dispari Queste sono le due funzioni che io sto applicando ai vari casi La sua versione senza if è questa Moltiplico il resto della divisione per 2 per il risultato ottenuto dalla funzione applicata Sommato a 1 meno il resto della divisione moltiplicato il risultato della funzione applicata per i numeri pari Questo funziona perché se il numero è pari questo termine diventa 0 e quindi moltiplicato per qualunque numero ci da 0 E quindi poiché quest'altro termine invece è 1 ci resta solamente quella parte Se il numero invece è dispari succede l'esatto opposto e quindi tutto funziona Adesso vediamo un esempio un po' più elaborato in cui ci viene in sorcorso la programmazione orientata agli oggetti Supponiamo che abbiamo dei dati che rappresentano i dettagli dei pagamenti di dipendenti di un'azienda E possiamo supporre che questi dati vengano fornite tramite un dizionario Dizionario inteso Dizionario Python In Python questa cosa può capitare spesso perché questi dati possono provenire da un JSON O dalla riga di un qualche database E quindi è facile che possiamo averli formattati all'interno del nostro programma all'interno di un dizionario Tra l'altro teniamoci per questo esempio lo stretto necessario per quello che ci serve Perché se no l'esempio sarebbe troppo complicato Abbiamo una classe dipendente che prende due parametri Il nome del dipendente è un dizionario come dicevo poco fa con i dettagli di pagamento Poi mettiamo un metodo chiamato mandapagamento dove se abbiamo un salario Allora prendiamo il salario e lo dividiamo per 12 perché quello è espresso come paga annuale Invece se il dipendente va pagato a ore prendiamo il numero di ore e lo moltiplichiamo semplicemente per la paga oraria In fondo al codice mettiamo due esempi Di Jennifer e Max che sono esattamente copiati dall'esempio da cui sto prendendo spunto Che tra l'altro se non ricordo male era scritto in Ruby Quindi l'ho dovuto riconvertire in Python La domanda è come doiamo questo if qua? Analizziamo due modi Nel primo modo è quello di creare due classi che rappresentano le strategie di pagamento Una per la strategia salariare L'altra per la strategia oraria Io ho fatto una modifica in più mettendo una classe astratta che è stata la base di queste due Ma questa è la mia modifica Queste classi hanno un metodo chiamato calcola somma ovviamente qui lo vedete scritto in inglese In cui loro sanno esattamente come calcolare il salario per ognuno di questi due casi Poi aggiungiamo un parametro al metodo mandavagamento chiamato strategia Che prende come input una classe Attenzione! Qua è importante Non prende un oggetto ma una classe che sia payment strategy o un suo sottotipo Ecco perché ho creato una classe astratta che sta alla base di queste due Visto che passiamo una classe Allora la dobbiamo istanziare Questo lo faccio in questo punto E infatti poi ci passiamo i dettagli di pagamento E poi diamo il metodo per calcolare la somma Quello che modifico nell'esempio in basso è la presenza di queste due classi qua Il problema tuttavia di questa soluzione È che io sto mettendo in maniera forzata Qua strategy salary e hourly strategy La domanda è Posso fare in modo che queste due classi qua Vengono restituite da una qualche funzione A partire dal dizionario Questo qua che rappresenta i dettagli di pagamento del dipendente E questo infatti ci riporta Alla seconda versione della soluzione Di questo problema senza IF Ho dovuto anche fare qualche piccolissimo cambiamento qua e là Di cui però in questo video non entro nel dettaglio Ma se volete approfondire Troverete il tutto il codice In un repository github Linkato qui sotto in descrizione Quindi concentriamoci sull'essenziale Ho aggiunto questa funzione che si chiama make strategy Che ha al suo interno un dizionario con le strategie disponibili E restituisce la strategia corretta in base al tipo passato Come parametro della funzione Questo tipologia di parametro lo aggiungiamo anche al dizionario dei pagamenti In cui possiamo avere qua salario o oraria Alcuni di voi potrebbero pensare che questa sia una forzatura Ma secondo me Non è difficile pensare che in un database Ci possa anche essere questo genere di informazione Che possiamo sfruttare al nostro vantaggio all'interno del codice Infatti questo campo type Lo uso come parametro da passare alla funzione make strategy Per ottenere una classe Per la strategia di pagamento che a me serve Una volta visti tutti questi esempi Ovviamente ce ne sono degli altri Ma passiamo avanti Quali sono le eccezioni alla regola? Come riporta il sito stesso della campagna anti-if I costrutti if sono utili da un punto di vista della progettazione Tipo le clausole di guardia E cosa saranno mai queste clausole di guardia? Dunque può capitare che spesso possiamo avere un metodo Una funzione che abbia una forma di questo tipo Qua si mette una condizione che se è vera Gli facciamo fare la qualunque cosa Spariamo i raggi laser Calcoliamo la massa del sole Ci facciamo un caffè Mentre se è falsa Non facciamo nulla Molto spesso si può ritornare tipo un null o un non In base a linguaggi di programmazione Oppure si può lanciare un'eccezione Anziché avere questo blocco if enorme Possiamo cambiare il codice mettendo un if Con la condizione di prima qua in cima Ma con un operatore nota all'inizio E qua invece in questa parte del codice Ritorniamo oppure lanciamo un'eccezione Sotto questo if Senza else Senza niente Semplicemente mettiamo quello che facevamo prima Raggi laser Sole Caffè Tutto quello che stava prima Questo controllo qua viene spesso definito come una clausola di guardia E permette di evitare indentazioni dovute a vari if in cascata Adesso passiamo alle considerazioni finali Reputo che alcuni argomenti sono validi Questo genere di ragionamento mi faceva pensare quando ho imparato a programmare in Cuda Che permette di eseguire certi tipi di programmi in parallelo sulle schede video o GPU Per delle ragioni che non sto qua a spiegare in questo video La presenza di flussi condizionali in quella circostanza rallentava di brutto la computazione Questo accade però per le GPU che funzionano su basi diverse rispetto alle CPU Tuttavia alcune argomentazioni che ho trovato su questo argomento Secondo me sono portate fino all'estremo Quando vi parlo che ho visto quel video del bowling Ho sentito delle cose che mi hanno fatto veramente soccere il naso E non erano cose di programmazione Cioè erano cose al di fuori della programmazione che a me non sono piaciute E nonostante io abbia ascoltato La mia natura mi porta sfortunatamente o fortunatamente A non seguire indicazioni di gente che ha un pensiero estremista su determinate cose Aggiungo che a parte nel caso specifico che mi è capitato in prima persona sulle GPU O casi simili Vedo uno squilibrio nell'usare questo tecniche all'estremo Un squilibrio di costi e benefici Faccio un esempio Se devo spendere mezza giornata per cambiare un paio di metodi Quali sono i benefici che ottengo? In termini di prestazioni, memoria e anche benefici economici Come direbbe Gio Pizzi, mi spiego peggio Tempo fa leggevo che un'agenzia spaziale Non ricordo quale, ma credo fosse la NASA Adesso sto andando un po' a memoria Tra le varie politiche di programmazione che adottava Non consentiva o non consente L'uso di puntatori e di allocazione dinamica Qui si parla quindi di programmazione in si In questo caso spendere ore per rifare il codice Che si adegua a queste due politiche E anche a delle altre che adesso non ricordo come dicevo poco fa Porta dei benefici enormi Infatti cosa accadrebbe se Per via di un bug Dato dall'uso di puntatori o della cattiva gestione della memoria dinamica O per qualsiasi altro motivo Si perde un satellite di milioni di dollari Che tra l'altro è successo più di una volta E magari su queste storie ci potrei fare un video in futuro Scrivetemi nei commenti se lo volete vedere E quindi Usare gli if oppure no? Fate come vi pare E usate la strategia di programmazione Che secondo voi è meglio E si addice al vostro caso e alle vostre esigenze Se state programmando su una GPU Ovviamente vi sconsiglio caldamente di riempire il vostro codice di if-else Tuttavia Se volete portare all'estremo questo concetto In tutti gli altri casi La scelta è solo vostra Fatemi sapere qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Contribuendo Per favore Positivamente al dialogo Iscrivetevi al canale E cliccate la campanella degli avvisi Per rimanere costantemente aggiornati Con i vari contenuti Che porto su questo canale E quindi Grazie ancora per l'attenzione E ci vediamo alla prossima Ciao Kilo E credo che adesso possiamo far partire la sigla Grazie a tutti